L'OFAMILI Il L'OFAMILI Il L'OFAMILI Il L'OFAMILI Il L'OFAMILI Vuoi farmi obbligare? Per quale motivo al mondo dovrei desiderarlo? Volete bene? Chiedimi com'è Allett. Non osare. Com'è Allett? Meravigliosa, chiamo. Assolutamente meravigliosa. Il L'OFAMILI Ma guarda, ti sei pieno di libri. Il sedere mi diventa rosso quando sono eccitato. Lei è il padre di Tully? Smettila di impi. Sono tuo amico. Certo, non hai diritto. Lui è molto ammalato. Hai mai avuto qualcosa che affligge il resto di noi? Non discuto più con te. Arrivederci. Ah, finalmente hai capito cosa voglio. Penso le piacche. Ma cos'hai della tassina? Io non ti voglio qui. Vai via. Levine. Sono in tea. Beh, è stato molto bello partecipare. Sei… Un pensi. Un pensi. Grazie a tutti